Salve terrestri, benvenuti in questo nuovo video, questo è un video un po' diverso, faremo un test dell'udito, praticamente più giovani si è e più frequenze alte si riescono a percepire, più si invecchia e più certe frequenze non le si sente più, purtroppo per rumori alti, discoteche, se uno ascolta molto la musica, certe frequenze tendenzialmente te le bruci e le perdi. Vedremo quanto sono giovani le mie orecchie, poi potrete fare il test anche voi per vedere quanto sono giovani le vostre orecchie, ora farò ascoltare la frequenza nel video, però non vi fidate di YouTube perché YouTube comprime le frequenze, quindi sopra una certa frequenza non sentirete più nulla anche se avete 5 anni, quindi se volete fare il test andate sulla pagina web che linkerò le altre informazioni per dirvi più o meno com'è il setup. Qui utilizzo le cuffie dell'iPhone e utilizzo il MacBook Pro e ho messo il volume al massimo, quindi la prima frequenza mi darà una breve stocchettata, ma almeno vi do un sistema per capire esattamente come sto facendo il test per essere pari, insomma, se no diventa un po' complicato. Ora iniziamo con quella da 8 kHz che tutti dovrebbero sentire, sì, devo dire si sente fin troppo. Ora andiamo alla 10 kHz che dovrebbe sentire sotto i 60 anni. Sì, sì, anche questa è molto molto forte. 12 kHz sotto i 50 anni questa. Sì, fin troppo acuta. 14 kHz sotto i 45 anni. Sì. 15 kHz sotto i 39 anni. Sì, la sento. Questa diventa più complicata. È 17 kHz sotto i 24 anni. Sì. È molto molto debole, perlomeno per me è molto debole, ma riesco a sentirla. Ora andiamo, quindi sto già a 24 anni, 6 anni meno, anzi, 7 anni meno nella mia età. Ora andiamo a 18 kHz sotto i 24 anni. Qui diventa difficile. Lui fa sentire un bip all'inizio e un bip alla fine. Non vi fidate di quello. Non saprei dire se riesco a sentire o no. È talmente, talmente, tanto debole che forse riesco a sentirla, ma è talmente tanto debole che probabilmente no. Poi c'è 19 kHz, 20 kHz, 21 kHz e 22 kHz. 22 kHz è da 18 anni in giù. Quindi, e poi la cosa strana è che se utilizzo la cuffia a cancellazione e rumore, il 22 kHz riesco a sentirlo. Sento un suono molto basso. Però solo se attivo la cancellazione del rumore. Cosa strana. Quindi, niente. Video particolare così. Fatemi sapere come sono le vostre orecchie. A quanti kHz siete riusciti ad arrivare. Io, perlomeno, personalmente, sono arrivato a 17 kHz. Salute a tutti, ragazzi. Al prossimo video.